Ciao bambini, io sono io, la solella della palata, vi ricordate di me? Beh, come sapete, se avete visto i nostri post, il Naka e Kylie sono in Australia. Quindi, la parte 3 del compleanno di Kylie, mia solella, la pubblicherò io. Buona visione! Allora, adesso potresti spiegarmi una cosa, perché l'avate tutti nascosti? Eeeh, volevo proprio farti... Eeeh, niente. Volevate giocare al nascondino, vero? Ah, sì, sì, certo. Eeeh... Guarda, c'è un uccello! Dove? 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 E io? Tutto bene? aioioioioioio ий l'ha avvoltato lo scabello aio dai ti aiuto oh grazie Kylie tolmando noi ehi voi avete visto un uccello ehi avete visto un uccello avete visto un uccello aah 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 sto buglievando la video camera ok ragazzi se ne è andato un uccello in tutto questo cosa dovevate dirmi sorpresa sorpresa non l'avevi capito che c'eravamo nascosti per il tuo compleanno no non l'avevo capito ma non è vero è solo che anche voi potevate dirvelo prima no 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 ok non potevate dirvelo prima ma in tutto questo avete dei legali per me? ah cioè noi ti abbiamo appena fatto una sorpresa di compleanno no e tu pensi ai legali? eeeh beh se li sapete in un compleanno si fanno i legali no? io ti ho legalato la festa ok a parte la festa naca qualcun altro mi ha fatto qualche altro legalo? io ti ho legalato l'opera d'arte l'altro giorno hai messo palata io te l'avevo detto che non avevi fatto tu l'opera d'arte nello troppo ho convinto ah grazie io è molto bella e ce l'ho in galaggia dovremmo prenderla da qualche parte palata l'abbiamo appesa in galaggia ah l'avevi appesa? sì è appesa talmente male che sembrava ancora da appendere ah ah non lamentarti appennila più la prossima volta qualcun altro ha qualche legalo per me? ah sì io io ho visto finalmente qualcuno che pensa a me tieni ti ho portato questo dalla mia vacanza aio io? sto bene? aio quello kairi dovresti cambiare lo sgabello mi sa che è un po' pericoloso sì me l'hai legalato tu lo sgabello? no io ti ho regalato questo è un tappeto che viene dalla Turchia dalla Turchia e e e Zalena non avevi detto che veniva da 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 Troia ah sì vabbè sempre da quei posti là ah sono intrappolata dal tappeto ah 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 eh cinque minuti dopo ah ah se l'ha fatta tieni kairi te lo regalo grazie lo mette l'ho forse potrei metterlo qui in bagno così quando esco dalla doccia ho il tappeto ecco così mi piace eh non guardate il sushi nella vasca da bagno è una cosa molto rilassante insomma io ma stai bene sì 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 mi siedo per te sai lo sgabello non è stabile dovresti buttarlo via sì lo butto nella vasca da bagno per ora avete altri regali? aio ah sì hai visto che bel buffet che c'è? sì l'ho visto è molto bello e io ho un regalo per te e l'abbiamo fatto insieme io e sempre vado io a prenderlo chissà cosa sarà magari una bolsetta tieni che cos'è? è un telescopio avete detto che dovevate andare in campeggio? wow beh potrebbe servirvi no? in Australia sono delle stelle molto belle ah becky filma bene scusa? scusate vi presenterò anche la becky nei prossimi video io la presento è la mia fidanzata sì insomma guardate si mette così e è un po' piccolo però potete mettervi in ginocchio e si guardano le stelle molto bello sapete? ok grazie a voi di questi regali bellissimi allora Kairi ti è piaciuta questa festa? sì allora adesso la canzoncina degli auguri potete anche cantare anche voi ragazzi da casa nei commenti datemi datemi cioè datemi fatemi gli auguri e cantate pure la canzoncina grazie ciao naca non la minale la canzone tan naca non mi da il mio desiderio è che il naca non mi da mai più fastidio kairi cos'hai desiderato? eeeh niente 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 eh non ho mica desiderato che il naca non volasse via sei seccola? sei seccola? io seccolissima eeeh aioo pelata ops credo di aver combinato un guaio circa una mezz'oretta dopo divano è occupato il divano levati non ne posso più c'è una fetta di tolta per me mi dispiace l'ho mangiata voglio molere ah non preoccuparti naca comunque questa festa è stata bellissima in che senso è stata bellissima? perchè io non ce l'ho eeeh anche povero me no sto scherzando comunque è stata bellissima questa festa grazie a tutti voi grazie eeeh se volete farmi gli auguri nei commenti benvenga ah grazie mille ciao aaaaaaah io ma adesso non ce l'hai più lo sgabello ma cadi sempre eeeh senti devi cambiare casa questa casa è fatta male io cado ma io non cado mai comunque sia grazie mille per la visione eeeh al prossimo video aah mi sono tirato su che bello aah 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 eeeh eccu aaaaaaah aioh Grazie a tutti.